Buongiorno gruppo, buongiorno a tutti, fuoco Capsule, 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 capsule Robert Scott Lazar A fibra ottica, UB di livello, 24 frame, 1080, 1900x20 pixel CD, UDVD, tutte ste tecnologie da dove vengono secondo te Chi le fa nei sperimenti, su questi cadari, sui scafi a vie Gopalum Lumpenium, l'elemento 115 Sono tutte le che vengono da altre galassie Che sono cancerogene per questa Può, 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 per questo pianeta Può, perché tutti i pianeti non sono uguali Fanno parte di un'altra materia E come una macchina, a pezzi differenti E il pianeta nostro ha pezzi differenti La, 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 la Robert Scott Lazar Scott Lazar Robert Scott Lazar Questo soggetto Smontav scafia alieni Ettore Majorana Era uno scienziato, un fisico Studiava la fissione nucleare Gli atomi Come far saltare Le testate atomiche Come far scoppiare l'urano in 235 arritite Impoverite Il plutono E' un derivato dell'urano Questi scienziati hanno fatto parecchie Parecchi studi Però facendo questi studi E' come giocare con il fuoco 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 Tesla Quell'altro scienziato che è scomparso Che ci stanno anche i nazisti per mezzo Ci sono stati per tanti anni Poi non lo so Decide a voi Dovete ragionare voi Ma non lo so Si deve fare un Un'indagine Buona serata gruppo Grazie a tutti